Lunedì 15 aprile sul palco del Teatro Regio tra i tanti artisti che si esibiranno c'è anche una parmigiana che si esibirà per la prima volta in parmigiano, Sara Biacchi. Sì, è estremamente buffo per me, dopo aver passato 15 anni a levarmi il dialetto, a pulire la mia edizione e recitare per la prima volta a Regio in parmigiano. Che tipo di spettacolo offrirai? Diciamo che Emanuele Agerdano, la regista con cui io lavoro ormai da due anni, ha chiamato una serie di artisti che sono uno più bravo dell'altro e avere l'onore di parlare di un'azienda così importante per noi, poi così importante che ci rappresenta nel mondo e doverlo fare nel nostro dialetto è veramente, ho un po' paura, ho più paura a recitare in parmigiano che non quando ho dovuto recitare in situazioni più forti però in italiano. Quindi ho bisogno di lezioni. E allora proviamo a dare un assaggio ai parmigiani di quello che vedranno lunedì 15 aprile. Allora, io ci provo. Emanuele Agerdano, è vero sped.